Grazie a tutti. E' quanto pesi sul mezzogiorno l'avere ospitato e nutrito la criminalità organizzata dall'unità d'Italia in poi, probabilmente anche prima. Che razza di peso, di palla al piede sia stata questa presenza che però, come vedremo, oggi è cambiata. Ed è cambiata per due aspetti. Uno, e questo lo analizzeremo in dettaglio, per il percorso di globalizzazione che ha investito anche la criminalità organizzata, che oggi si presenta con un volto diverso da quello del passato. È una criminalità organizzata, una mafia più imprenditoriale, più attenta ad aspetti che in passato non è che non avesse una componente economica, ma erano meno presenti. Il secondo è quella di avere meno un'impronta locale e di avere più un'impronta continentale. E sto parlando di continente, non nel senso del continente l'Italia, ma nel senso del continente vero e proprio. Ma noi vedremo uno per uno questi aspetti. E per quello che riguarda la Sicilia, l'ipotesi che pongo sul terreno è che il baricentro, proprio in virtù di questi percorsi, il baricentro della criminalità organizzata, della mafia, le cito perché esiste la mafia, l'andrang, la camorra e tutto quello che ben conoscete, si sia leggermente spostata da una centralità, una totalità del comando nell'isola a qualcosa che è più orientato sul continente. Cioè praticamente per dirla in parole grezze da giornalista che il centro del centro della mafia non sia più la Sicilia, ma sia un centro diffuso e spostato più sul continente. Do per prima la parola a Gianmaria Fara, URISPES, il grande presidente e capo dell'URISPES, per affrontare la questione anche sotto questo profilo. Tu hai posto l'accento sui cambiamenti, sulle trasformazioni che le organizzazioni criminali hanno messo in atto nel corso degli anni. A parte la reazione, l'impegno repressivo dello Stato nei confronti delle organizzazioni criminali, che ha dato evidentemente i risultati che speravamo, che ci aspettavamo, noi ci troviamo di fronte anche ad un cambiamento, ad un passaggio, se vuoi, di carattere generazionale. I mafiosi di un tempo hanno fatto studiare i propri figli, molti sono a Londra, molti a Milano. La mafia punta più sulle borse e sui processi economici che non sulle attività tradizionali, che rimangono, insomma, sono sempre curate sul territorio, però la proiezione è un'altra. La dimostrazione plastica, la metafora plastica di questa trasformazione e la registrazione, l'intercettazione telefonica tra due mafiosi che si parlano e uno dice all'altro, senti a me, io sono stufo di questi che fanno bam bam per le strade, a me interessa quelli che fanno plin plin sui computer. Ecco, la mafia si è modernizzata, si è proiettata oltre se stessa e naturalmente persegue obiettivi diversi che sono gli obiettivi... Tra l'altro conosco quella intercettazione, ne abbiamo già parlato insieme e nella stessa intercettazione loro ipotizzano che il centro sia spostato in Calabria, no? È la stessa? Ma certamente, il procuratore De Rao potrà confermarlo, ormai il vero potere mafioso, la mafia che conta tra le quattro mafie storiche tradizionali, quindi Cosa Nostra, Andrangheta, Camorra e Sacra Colonna Unita, la vera mafia che conta è l'Andrangheta, quella che esprime la maggior potenza, la maggior capacità di collegamenti anche internazionali e la mafia che ha combattuto Caffiero De Rao nel corso degli anni, soprattutto quando era procuratore a Reggio Calabria e che combatte adesso come procuratore nazionale. E allora do la parola al Presidente Merito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre. Qual è il punto? Prendo dalle parole di fare e provo a sviluppare una riflessione. I punti sono due. Uno, che non vi compiacete troppo, non significa che la mafia è scomparsa, la Sicilia è andata altrove, ma significa semmai che la lotta, la mafia degli ultimi vent'anni ha avuto un successo, ha avuto un relativo successo e ha costritto la mafia, Cosa Nostra, a riposizionarsi. A cambiare pelle. Secondo elemento, ed è su questo che vorrei provocare l'attenzione di Baldassarre, il secondo elemento è questo. Tanti anni fa, negli anni 50 e 60, noi facemmo un errore, l'Italia fece un errore. Abituata alle vecchie categorie della mafia, che erano categorie agrarie, contadine, non vide la mafia metropolitana, la modernizzazione della mafia, cominciò ad accorgersene forse dopo la strage di Viale Leazio, cominciò ad accorgersene, ma progressivamente. Poi cominciarono i grandi omicidi, omicidi che le nostre categorie non erano adatte a interpretare e arrivamo, parlo degli intellettuali, arrivamo in ritardo a capire cosa era successo nella mafia. Eravamo ancora ai film degli anni 50 che descrivevano una mafia ad impronta agraria. La mia ipotesi, l'ipotesi di lavoro è che oggi rischiamo di commettere lo stesso errore. Siamo abituati alle categorie della mafia che vediamo nel film Il Traditore, della mafia denunciata da Buscetta e noi non stiamo vedendo abbastanza, o non la si vede abbastanza nella saggistica, sui giornali, in televisione, la nuova mafia che è questa mafia che Farah ci ha descritto prima, la mafia del Plin Plin, la mafia del computer, la mafia dell'organizzazione economica come fonte principale non solo del reddito ma anche del potere. Antonio. Sì, guarda, il problema della mafia che ormai opera su tutto il territorio nazionale, io direttamente posso dare un esempio della ricostruzione del terremoto, da dove ci sono state molte imprese che si sono impegnate e molte di queste erano legate alla criminalità organizzata, ma in un modo totalmente diverso, nel senso, in un dubbio terremoto, Umbria, Abruzzo, Marche. E perché non lo si vide subito? Ma perché da un lato c'era un'organizzazione di queste imprese che conoscevano soltanto i mafiosi, cioè i mafiosi con consapevolezza sono entrati nel territorio, ma dall'altro lato c'erano delle imprese locali che a volte erano bisognose di capitali, di investimento, perché questo è un problema di tutte le imprese italiane, delle imprese soprattutto quelle non grandi, la carenza di capitali, e allora si presenta un gruppo o una società che è capitalizzata, è chiaro che una impresa locale che veniva favorita, perché una delle clausole della ricostruzione è stata quella di cercare di favorire le imprese locali per favorire la rinascita del territorio, ecco, una impresa locale che si trova in carenza di capitali, trova un partner capitalizzato che apparentemente non si presenta ovviamente come un membro di Cosa Nostra, ma si presenta come un'impresa pulita perché attraverso prestanomi eccetera, e fa alleanza magari in buona fede. Alta ti devo interrompere, questi che fanno alleanza sanno che si stanno alleando con la mafia o no? A volte sì, infatti sono stati, ma molte volte no, lo scoprono successivamente, e quindi c'è questo settore grigio in cui solo dopo si viene a scoprire, ma il problema di fondo è che oggi la mafia che opera a livello nazionale e anche oltre è uno dei pochi soggetti che ha capitale a disposizione e ne ha più di altri. Questo dà un vantaggio operativo alla mafia, alle mafie, che nella situazione, nella condizione economica d'Italia è un vantaggio enorme. Questa è la mia opinione. Allora è chiaro che questo bisognerebbe che ci fosse un'azione della classe dirigente, della classe politica in qualche modo diversa, che non pensi soltanto a combattere con tutto il rispetto, lo dico al procuratore, con tutto il rispetto dell'azione della magistratura, ma la mafia non si combatte soltanto con questi strumenti, si combatte anche andando laddove la mafia si arricchisce, laddove le mafie si arricchiscono, laddove operano, nei settori economici o nei settori commerciali. Mi diceva il comandante della finanza dell'Italia centrale, che quindi conosceva bene la situazione dell'Umbria, delle Marche, che la tendenza è quella delle mafie di penetrare sempre di più questi territori, attraverso le attività commerciali. Ci sono negozi che nascono e crescono per attività di riciclaggio, che nascono in pochi giorni, si vedono pieni, ricchi di merce e pochi giorni dopo chiudono e aprono altri. Tutto questo avviene ormai dappertutto, ed è chiaro che l'azione dello Stato deve essere diretta anche a questo tipo di manifestazioni della mafia, non soltanto a controllare dal punto di vista giudiziale e poliziesco il fenomeno, che non è sufficiente, perché non è sufficiente la strategia giudiziale e di polizia. Grazie a Antonio Baldassarre. Estendo questo applauso anche a te, a Farah, perché ci avete ben introdotto al tema. e al procuratore Caffiero De Rao chiedo di commentare queste nostre prime analisi e di rispondere a una domanda, se me lo permette, maliziosa. Gli ultimi due, lei e il suo predecessore, procuratore antimafia, non sono siciliani. È la prima volta, insomma, è un dato. E nello stesso tempo sono, lei in continuità con il suo predecessore, quelli che hanno messo più il punto sul dito, sulle cose di cui hanno parlato Farah e Baldassarre. Cioè questo cambiamento di pelle della mafia. C'è un nesso fra le due cose. Lei mi dirà di no, lo so già. No, per carità, è casuale. Io siamo semplicemente nati in posti diversi. Però abbiamo notato un allargamento di visione dalla Sicilia a fuori dalla Sicilia. Esiste questo allargamento di visione? O non rispondere? Sicuramente no. Sto soltanto pensando ai vari sensi che la domanda può avere. E quindi voglio rispondere senza sottrarmi a nessun aspetto. Il mio predecessore era napoletano come me e in genere le nomine vengono fatte attraverso delle valutazioni comparative. Le valutazioni comparative fanno riferimento un po' alla carriera professionale, un po' all'impegno, un po' alla proiezione, anche a quello che è il progetto che si ha nell'ambito dell'ufficio. Quindi devo dire che la mia esperienza è stata, è vero, una esperienza napoletana e calabrese, che però non era un'esperienza che era disgiunta da quella siciliana. Nel senso che anche quando ero a Napoli mi sono occupato di varie indagini come quella sul clan dei Casalesi per esempio e in quelle indagini erano numerosi gli aspetti di collegamento con Cosa Nostra. basta dire che un capo dell'organizzazione più forte di quel clan era uno dei componenti della commissione provinciale quando ancora c'era e quindi il legame fra Camorra e mafia era un legame che già entrava nella mia esperienza. Ma è significativa quella telefonata che c'era prima Fara in cui i siciliani, i mafiosi siciliani, dicevano ma ormai il potere vero è altrove e noi siamo, il collegamento nessuno lo nega, ma che hanno un ruolo subalterno. È possibile ipotizzare che abbiano un ruolo subalterno? No, ruolo subalterno certamente no, perché Cosa Nostra è ancora molto forte, viva e capace di proiettarsi a livello nazionale e internazionale. Le indagini lo evidenziano, non solo Cosa Nostra ma anche la stida, pensiamo all'indagine di qualche giorno fa o meglio che qualche giorno fa è andata alla ribalta della cronaca, la Davo sono stati arrestati appartenenti, circa una cinquantina di appartenenti all'organizzazione mafiosa Stid dalla procura distrittuale di Caltanissetta e altra trentina a Brescia. E come sia stata diversa la morfologia dei due gruppi, pur essendo entrambi espressioni della Stid, quando ha operato nella provincia di Caltanissetta o Agrigento, nei territori suoi di origine, ha operato come mafia tradizionale, arcaica, con le estorsioni, con le violenze, con tutto ciò che ha sempre connotato l'agire mafioso. Quando ha operato a Brescia, pur trattandosi di soggetti che sono passati dalla provincia di Agrigento a Brescia, ha operato attraverso società. E come? Addirittura ha creato un circuito di numerose società le quali acquisivano, acquistavano crediti di imposta, crediti di imposta sostanzialmente fittizi o gonfiati e li cedevano ad altre società, società apparentemente pulite, che però ben volentieri trovavano conveniente di entrare in contatto con queste società gestite da mafiosi, le quali avevano costituito un sistema attraverso il quale veniva offerto alle società sane, quindi a quelle che operavano sul mercato, veri e propri servizi. Il servizio consisteva nell'approvvigionarli di crediti di imposta gonfiati, crediti di imposta che peraltro non potevano essere ceduti, che però utilizzando uomini che avevano la possibilità di entrare nel collegamento telematico con l'agenzia dell'entrata e quindi operare anche sui crediti di imposta, passavano i crediti di imposta e consentivano alle società sane che operavano a Brescia, a Milano, a Torino di abbassare quindi i loro obbligi. Provo a dirle cosa mi comunicano le sue parole, che la stidda di Agrigento e Caltanisetta è ancora legata a delle ritualità arcaiche, ma il vero pericolo è nella stidda di Brescia, perché quella è più difficile da decrittare, più difficile da analizzare, più difficile da combattere, nel senso, e soprattutto, questo è il punto centrale, è capace di tessere delle alleanze, ripenetrare il mondo non mafioso in una maniera originale, perché mentre noi ci affatichiamo ad analizzarla e la sua analisi è esauriente, ma intanto loro hanno già creato una rete fra mafiosi e non mafiosi. Alcuni, come diceva prima Baldassare, non consapevoli neanche che stanno lavorando con la mafia. Si può dire? Ma certo, perché la mafia ha avuto l'intelligenza criminale di avvalersi di una borghesia mafiosa, cioè di quella che così la definisco oramai da anni, e in essa operano avvocati, commercialisti, professionisti, uomini delle istituzioni che danno il loro sostegno, cioè una rete di rapporti che consente alla mafia di essere forte e proiettarsi nel mondo economico. E proprio al nord, come al centro del nostro paese, la drangheta prima di tutte, ma anche Cosa Nostra e la stidda entrano nel tessuto economico con grandi ricchezze che riciclano attraverso società e utilizzano anche soggetti che tradizionalmente hanno operato nello stesso settore e che finiscono per avere necessità o convenienza a trattare con la mafia e prendere quei soldi, nasconderli nei propri bilanci e utilizzarli. Avrei tantissimi esempi, non so se ho tempo, ma qualcuno glielo vorrei menzionare. A tempo, a tempo. Ricordo una delle indagini, l'indrangheta banking, laddove l'indrangheta si era posta a Milano come soggetto che finanziava le imprese e gli imprenditori che utilizzavano quel danaro, che era il danaro che proveniva dal traffico internazionale di stupevacenti, lo investivano naturalmente nelle proprie società e le società crescevano. A volte però questi imprenditori non riuscivano a crescere e i loro debiti non riuscivano ad estinguerli, quindi tornavano nuovamente da quelli che apparivano, soggetti ben vestiti, colti, perché sono tutti professionisti, sono tutti laureati, sono tutti soggetti che sono professionalmente preparati, tornavano per chiedere altri soldi e lì ad uno di questi soggetti gli venne detto ma tu devi portare i soldi e lui innanzitutto resta sorpreso, noi avevamo le telecamere, avevamo parecchi di registrazione, quindi vedevamo tutto quello che avveniva e hai dimenticato di portare i soldi. Dice sì, io non sono riuscito a recuperare quello che devo, ma tu avevi un obbligo, stai attento, tu devi adempiere e lui dice sì, vabbè, allora datemi altri 30 giorni, dice aspetta, tu conosci le armi? E lui dice ma le conosco, no, di un calibro, di un'arma qualunque, sei andata a cinema qualche volta e lui dice ma che posso dire, un revolver 38, allora dice alla persona che stava a fianco a lui, quest'uomo che sembrava un professionista, vai a prendere un'arma, quell'arma che ti ha detto e lui torna e gli fa vedere un'arma, dinne un'altra adesso, dice ma non so che cosa, di un mitra, quello che vuoi tu, una cosa, un kalachnico, vallo a prendere, lui va dentro, torna e gli fa vedere questo mitra, dinne un'altra, dice no ma che devi pagare, stai attento, paga, e quindi questo se ne va e va a cercare soldi altrove. Questo era il modo di gestire i prestiti, laddove si pagava, in altra occasione danno soldi ad una società, gli stessi soggetti che gestiscono il traffico di stupefacenti perché noi li seguivamo e verificavamo quello che facevano nei rapporti con una società in particolare e nei rapporti con i trafficanti colombiani con i quali si incontravano sempre a Milano. Ebbene, questi soggetti vanno nella società dove amministratore era stato conservato un ingegnere, quello che aveva avuto bisogno di soldi e si era rivolto a loro e a questo gli dicono ma noi dobbiamo salire ancora di più, questa è una società a responsabilità limitata, deve diventare una società per azioni, dice ma i soldi, non ti preoccupare, e vanno con una busta piena di soldi, ma una busta grande così, di quelle là, grosse, carica di soldi, dice ora vedi come devi nasconderli, falli entrare come finanziamento di soci, come valutazione degli immobili, fai in modo che entrino questi soldi e portiamola a una società per azioni, dopodiché entrano nei lavori dell'Expo e diventano una società come tutte le altre e chi è l'amministratore? Lo stesso che era precedentemente amministratore della società, quindi un ingegnere, quindi una persona per bene che aveva svolto sempre la stessa attività, ecco qual è l'intelligenza che hanno, quella di riuscire a occultarsi, nemetizzarsi, utilizzando, entrano nei modi più insidiosi. Ma lei con le persone con cui hai contatto, questo che ci sta raccontando, e che anche per me, confesso, è in parte una novità, ne sono consapevoli i suoi interlocutori, parlo degli interlocutori illegali ovviamente. Ma in questo caso certamente, perché l'amministratore quasi veniva frustato dai soggetti con i quali operava, quindi lo sapeva perfettamente con chi aveva a che fare, un uomo per la verità colto, laureato, capace di lavorare, che in fondo veniva trasformato in uno schiavo, questa è la mafia, che entra in modo insidioso, ma mette il soggetto in una situazione di vergogna, quindi anche chi si trova in una certa situazione probabilmente ha difficoltà, non solo perché ha paura, ma che è stato sempre un uomo che ha operato nel settore economico, ha anche vergogna di presentarsi in un ufficio di polizia, in un magistrato, e dire quello che sta subendo. Perfettamente comprensibile. Allora, torno a Fara, per dire, hai sentito soggetti ben vestiti, interlocutori, soldi, macchine di soldi, questa è la nuova mafia. E la politica dove è finita? Cioè, noi eravamo abituati 20 o 30 anni fa a vedere il ruolo della politica e dei grandi politici, un ruolo, poi le inchieste hanno detto dove, come e quando, però un ruolo da protagonisti. Oggi sono quasi scomparsi, anche nelle serie televisive dedicate a Gomorra, la mafia, i politici sono veramente degli attori sconosciuti che compaiono di quando in quando e che fanno i servizi più umili, procurano quando devono procurare leggi o contatti. beh, questo è un capovolgimento non da poco se le cose stanno così. Tu lamenti l'assenza della politica. Difendo la politica che aveva una sua parte. Anche su questo fronte ci sono state le trasformazioni importanti. Un tempo il mafioso cercava il collegamento sul territorio col politico, col parlamentare, col consigliere comunale, col sindaco. Adesso le cose sono cambiate. I mafiosi hanno insediato i loro sindaci, i loro consiglieri comunali e i loro parlamentari. Cioè non c'è più un rapporto di dipendenza delle organizzazioni criminali dalla politica. C'è un rapporto di collegamento diretto perché la criminalità organizzata esprime direttamente quelli che saranno poi i propri interlocutori a livello locale o a livello nazionale. Per quello che ne viene fuori sono sempre figure, mezze figure. Beh, mezze figure. Quando tu cominci a pensare all'amministrazione di un grande comune, agli appalti di una regione, stiamo parlando sempre di milioni, milioni, milioni di euro. Io vorrei aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva il procuratore De Rao prima. È chiaro che uno dei meccanismi utilizzati dalle organizzazioni criminali è quello di infiltrarsi nell'economia sana con l'obiettivo di riciclare il danaro sporco. Però noi abbiamo assistito negli ultimi anni ad un fenomeno che è esattamente speculare, quello che abbiamo definito il money-dirting, dove i capitali puliti si affidano alle organizzazioni criminali, si affidano alla... Sì, perché danno interessi, danno quello che una banca non ti dà. Se tu avessi un milione di euro in banca dovresti pure pagare per tenere aperto il conto e quindi è un capitale che non viene remunerato. Questo capitale si rivolge ad operatori borderline, a operatori che sono come quelli descritti dal procuratore Caffiero, apparentemente puliti, apparentemente perfetti e quindi è danaro pulito che viene prestato alle organizzazioni criminali. Questa mi sembra la cosa più insidiosa da non sottovalutare perché in questo modo, in modo moderno, è come quando si diceva in fondo la mafia dà lavoro laddove il valore non c'è e qua è come se ci fosse un significato subliminale e loro ti fanno ottenere fanno ottenere dei guadagni che l'economia regolare... Direttore, volevo dire che sono cattivi i mafiosi ma c'è anche chi in qualche maniera li aiuta insomma pur collocandosi dalla parte buona della società e dalla parte della legalità poi alla fine trova intese con la... insomma se ripensi a Roma pensa al mondo di mezzo insomma, no? Baldassarre anche lei ha l'impressione che la politica si è finita un po' sullo sfondo oppure c'è e noi non la percepiamo? No, io sono ancora il mio sguardo è ancora peggiore di come è stato raffigurato la verità è peggio di come l'ha raffigurato la verità no, no, no sulla politica sulla politica sulla politica la politica è finita non c'è più politica e questo non è un fenomeno soltanto italiano cioè che non comanda non ha... no, no, no è finita proprio come gestione particolare che dirige che porta a sintesi la società e dirige la società non c'è più questa politica e questo avviene in tutto il mondo occidentale quindi vuol dire che ci sono delle cause che non sono soltanto del nostro paese sono cause più generali probabilmente è la natura del capitalismo finanziario che porta a questo ma questa è una mia idea che può essere anche smentita dalla realtà ma di fatto succede questo e insieme a questo fatto cioè il perdita di ruolo della politica come tale insieme a questo fatto c'è anche la distruzione delle istituzioni di socializzazione essenziale della società la scuola non solo in Italia noi abbiamo sempre fenomeni di questo tipo peggiorati accentuati ma la scuola negli Stati Uniti a parte le scuole privilegiate per i ricchi e per i bravi non esiste un sistema scolastico efficiente e lo stesso è da noi il ministro dell'istruzione che manda il figlio a una scuola privata è la dimostrazione che conosce bene la scuola com'è la scuola italiana è stata distrutta la scuola no no ma si era una battuta questa di fatto di fatto se io dovessi dire dare un consiglio ai miei nipoti dove andare a studiare ci penserei prima di dire andate a studiare in una qualsiasi università italiana o in una qualsiasi università del sud perché da noi ci sono tre o quattro università che funzionano bene il resto non c'è stata solo come si può dire ieri sentivo dire che c'è stata una mancanza di alfabetizzazione dei giovani ma anche dei professori anche dei docenti del resto leggi il libro di Ernesto Galli e hai un quadro perfetto di come è stata distrutta la scuola quello è un libro impressionante però allora vuol dire se quel mondo soccombe il mondo della politica e il mondo più in generale quella che chiamavamo la società civile della scuola con esso soccombe il male le compromissioni con la maniera ma anche il bene cioè chi quelli per bene nella politica e nella scuola erano innanzitutto ho l'impressione che fossero la maggioranza e poi erano coloro che si prendevano il compito di affrontare e risolvere questi problemi se tutto è andato a carte 48 chi avrà questo compito ma no vedi da parte i giudici noi siamo figli di un'altra società quando c'era un sistema scolastico che bene o male funzionava noi quello della mia età quella della sua età forse sicuramente anche quella dell'età del procuratore di Rao ma ora è una situazione molto diversa la distruzione della scuola ha fatto sì che ci fosse una distacco totale tra merito e lavoro oggi il lavoro viene ottenuto attraverso sistemi che si possono definire tra virgolette clientelari ma che sono di altro tipo la scuola non è più l'elemento il fattore che porta a scegliere un lavoro io sono rimasto impressionato quando tre anni tre quattro anni fa con Giuliano Amato siamo andati a fare un dibattito a Londra con i professori due professori di Oxford un dibattito sulla costituzione italiana e ho visto ho trovato una una platea di 500 600 persone e con Giuliano facevamo le battute impossibili che sono tanti interessati alla costituzione italiana qui a Londra dove la patria del costituzionalismo e del parlamentarismo in realtà erano tutti italiani che venivano a sentire a prendere una boccata di nostalgia diciamo così del proprio paese che poi sono venuti da noi a parlare con noi tutti italiani che ormai stanno stabilmente in Inghilterra laureati ben laureati molti di questi insegnano nelle università inglesi quindi la migliore gioventù è andata fuori e tutti ci dicevano ma noi non pensiamo minimamente di tornare in Italia noi siamo qui ecco allora se c'è se il salta il sistema scolastico come sistema di selezione perché anche questo fatto che tutti prendono 60 è un male atroce un male atroce e se non viene meno se se viene meno il sistema di selezione scolastico lo fa la società con i mezzi che c'ha e anche e anche con i mezzi criminali questo è il dramma procuratore se è vero questo quadro e non ho motivo di ritenere che sia fatto praticamente lei è rimasto da solo a combattere la criminalità organizzata perché se crolla il mondo della cultura della politica lei ha la stessa impressione che che coloro che lo fanno per missione siano un po' soli a fare questo lavoro o avverte una parte di sensibilità del mondo della politica e della cultura non sto parlando della sensibilità retorica perché tutti sono buoni a dire sì 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 lotta alla mafia ma parlo di solidarietà e solidità operativa quando serve che ci siano che ci siano Devo dire innanzitutto che affermare la solitudine dei magistrati della polizia dei carabinieri della guardia di finanza è un po' forte e certamente non è così vi è una società civile che in parte è molto attiva e su questo tenderei a sottolineare come parlare sempre della mafia dell'antimafia quasi che l'antimafia non esiste non è vero è fuorbiante è come dire che non esiste una parte buona nella nostra società e invece c'è si impegna molto e anche nella scuola c'è una scuola che oggi diversamente a ieri è una scuola molto proiettata sul sul senso di responsabilità di consapevolezza dei diritti sull'esigenza di legalità sul contrasto alle mafie oggi a qualunque studente gli si chieda chi è stato Livatino chi è stato Falcone chi è stato Saetta sa rispondere se gli si chiede delle stragi sa parlare sa dire cosa è avvenuto sa parlare della trattativa stato mafia sa parlare di tanti aspetti e sì certo si può ritenere ci sia non ci sia non voglio affermarlo in questo senso lo dico come tema sono temi che nelle scuole vengono trattati così come la politica esiste una politica che si impegna alcuni politici che si impegnano ve ne sono altri che evidentemente consentono che le mafie continuino a lavorare così come hanno sempre fatto c'è una politica che fa accordi con la mafia una politica che consapevolmente viene ma non è la stessa di che tipo sono gli accordi con questa nuova mafia che lei ha descritto perché non saranno come gli accordi dell'epoca di Ciancimino saranno accordi di tipo nuovo come in che senso la politica sono differenziati nel senso che a volte l'accordo può essere attraverso soggetti economici essi stessi legati alle organizzazioni mafiose andranghetiste camorriste a volte il politico è il riferimento per portare avanti determinati disegni che possono favorire i settori nei quali le mafie operano e voi siete capaci di individuarli questi disegni a volte sì si vedono a volte sì e a volte addirittura ci sono soggetti politici che vengono quasi addestrati cresciuti seguiti nell'andrangheta per esempio abbiamo sviluppato un'indagine nella quale si evidenziava come diversi soggetti erano sostenuti dall'andrangheta stessa e guardati nell'atteggiamento che avevano rispetto all'andrangheta stessa per cui di alcuni si diceva come soggetto che avrebbe potuto guidare la regione o che avrebbe potuto guidare il comune per altri il riferimento invece al Parlamento italiano per altri al Parlamento europeo ecco le discussioni che avvengono all'interno dell'andrangheta che non è più l'andrangheta dei banditi come lei ha detto e come hanno detto gli altri che sono intervenuti ma è un'andrangheta colta fatta di soggetti economicamente forti che utilizzano il metodo mafioso solo quando occorre in genere utilizzano la ricchezza e la strategia economica per convincere gli altri imprenditori a entrare nel loro circuito quindi è molto più evoluto il disegno allora però generalizzare sulla politica e dire la politica è tutta uguale no la politica non è tutta uguale ma lui diceva che conta di meno la politica non conta quasi più per niente non che fosse tutta collusa pensiamo per esempio alla legge anticorruzione che è una legge secondo me straordinaria nella quale si fa una identità fra il sistema criminale della corruzione e il sistema comunale mafioso perché? perché il meccanismo è lo stesso la corruzione è lo strumento attraverso il quale oggi le mafie entrano nelle pubbliche amministrazioni e riescono a costituire delle reti di imprenditori che si agevolano grazie a questa entratura che le mafie riescono ad avere le mafie oggi non utilizzano più come si diceva poco anzi il dito indice per sparare ma utilizzano altri sistemi e soprattutto quello della convenienza economica in un momento di difficoltà economica generale offrire delle opportunità per guadagnare di più certamente è visto come conveniente dagli imprenditori anche dagli imprenditori sani ecco perché bisogna intervenire creando delle selezioni ecco perché si chiede ai politici nel loro interno partiti movimenti prima di arrivare alle elezioni fare delle selezioni all'interno per individuare le persone eticamente migliori non soltanto quelle che portano voti ma quelle che invece sono in grado di vivere il loro mandato nell'interesse della collettività e come nell'economia sia necessario che le associazioni le varie associazioni di industriali imprenditori di artigiani operino per il miglioramento all'interno creando delle barriere perché laddove entrano le mafie entrano con i soldi e quindi creano un circuito che è totalmente stravolgente dei meccanismi corretti di funzionamento dell'economia stessa e questo cosa determina se non si interviene che coloro che sono imprenditori sani o vanno a lavorare all'estero o alla fine saranno costretti anch'essi ad aderire a circuiti come questi ma chi deve assumersi questa responsabilità se non innanzitutto la politica quando andiamo ad abbattere le soglie per la partecipazione agli appalti e non poniamo più regole noi apriamo un'autostrada alle mafie per entrare senza problemi negli appalti e negli appalti si verifica quello che è il meccanismo più diffuso vale a dire come dicevo poc'anzi dei cartelli di imprese le mafie si fanno registe esse stesse della partecipazione a appalti e esse stesse formano le offerte dopo aver costituito dei cartelli di 30 40 50 60 imprese tutte interessate è evidente che di fronte a meccanismi come questi anche l'imprenditore sano finisce per essere aggredito da un sistema criminale rispetto al quale o aderisce o resta fuori soltanto dicevo con le indagini penali purtroppo si riescono a smascherare questi meccanismi però è anche vero che se funzionassero i meccanismi di controllo i meccanismi di vigilanza che di volta in volta sono istituiti se anche si riuscisse a individuare soggetti capaci di esercitare appieno il loro dovere probabilmente questi meccanismi verrebbero smascherati io spesso menziono l'articolo 54 della Costituzione che ricorda che i funzionali pubblici diversamente dai cittadini che vengono indicati dal primo comma che hanno il dovere di osservare la Costituzione ed altre leggi hanno anche il dovere di svolgere le loro funzioni con diligenza e con onore guardi questa parola onore cioè se i funzionari pubblici si muovessero con l'impegno che consente loro di attuare questo dettato della Costituzione io credo che qualunque meccanismo criminale verrebbe smascherato perché non può passare inosservato che tante offerte vengono formate tutte allo stesso modo come non può passare inosservato che tante imprese partecipano sempre tutte ecco da tempo ho chiesto in questo settore che venga istituita una banca dati nazionale degli appalti nella quale vengano inserite tutte le gare con tutti i soggetti che vi partecipano mi sembra logicissimo perché non si fa subito anche io lo vorrei sapere ne ho parlato ne avevo parlato con il ministro delle infrastrutture il ministro dell'interno il ministro della giustizia con tutti e ancora non si fa dicono che è complicato ma credo che oggi con internet se i ragazzi riescono a comunicare con tutti e riescono telematicamente a scambiarsi informazioni credo che non sarebbe difficile per uno stato come il nostro grazie procuratore speriamo che qualcuno ascolti queste sue parole però io devo chiarire per dire meglio un concetto io non penso affatto che quando ho detto prima lei è rimasto solo è rimasto solo come lo si diceva una volta dalla chiesa nel senso che il resto della politica sia silenzioso perché in qualche modo colluso penso che però abbia ragione Baldassarre quando mette il dito su una cosa più sofisticata cioè che la politica conta meno che oggi si ha una percezione poi ce ne sono di collusi e di per bene i per bene sono la maggioranza ma lo chiedo al presidente dell'Eurispes la politica così la politica impastoiata più debole più meno rispettata e aggiungo una cosa per fare per farla inorridire anche nelle scuole anche in quella cultura di cui lei giustamente si compiace che oggi sia più sensibile beh la sensibilità è una sensibilità di carattere storico cioè sono più sensibili nel ricordare le cose che lei ha ricordato Falcone Borsellino il maxiprocesso la trattativa indipendentemente dal fatto che ci sia stato o non ci sia stata ma andiamo io e lei facciamo un giorno di cinque scuole in tutta Italia e sondiamo testiamo il grado di consapevolezza sulle cose che lei oggi qui ci ha raccontato e le assicuro che se ci scommettiamo una colazione lei perderà nel senso che la consapevolezza su questo è molto minore e guardi che è un fenomeno che si che si ripresenta cioè è un fenomeno però adesso ne parleremo anche con Fara il fatto di avere una forte vibrazione rivolta al passato ma una scarsa consapevolezza del presente e del futuro quello di cui qui ci occupiamo cioè di come dove e quando io lo vedo lo giudico dai giornali dai servizi televisivi insomma pochissimi molti spiegano Falcone Borsellino la trattativa e le cose di cui parliamo qui pochi raccontano e poi pochissimi con nomi e cognomi l'universo che lei ci ha qui descritto però mi scusi mi consenta di dirle ha ragione non posso lasciare io devo dirle che spesso vado nelle scuole parlo con ragazzi giovanissimi e quando parlo con loro di questi temi di legalità anche menzionando esempi di coloro che si sono sacrificati di quello che è necessario per migliorare non essere mai schiavi di esercitare appieno i propri diritti la libertà di sapere che l'uomo ha innanzitutto una propria corazza che è la dignità rispetto alla quale nessuno deve piegarsi ecco alcuni ragazzi piangono ma questo che significa cioè il pianto è una manifestazione di sensibilità di chi vive sulla propria pelle e in sé quello di cui si sta discorrendo cioè sono ragazzi che non scherzano non giocano non si mettono a parlare non fanno rumore ma vogliono sapere vogliono essere essi stessi e questo per la verità una volta non c'era allora questo mi fa pensare che andiamo sicuramente verso un cambiamento e la cultura e la scuola sicuramente va verso questi obiettivi Farah ma è chiaro che la politica ha subito nel corso degli ultimi decenni un lento e costante processo di delegittimazione così come l'hanno subito il resto delle istituzioni noi attraverso il nostro rapporto Italia e l'analisi le indagini che facciamo tutti gli anni segnaliamo costantemente calo di fiducia nei confronti del governo del Parlamento del sistema politico dei sindacati tutto ciò che è istituzione ora se mi consentite di essere un po' eterodosso io direi che noi dopo il 92 dopo mani pulite qualche errore l'abbiamo fatto la sensazione che io e che noi che errore per esempio beh errore errore di valutazione errore di fare di tutta l'erba un fascio errore di pensare che la politica fosse tutta da buttare la sensazione che io e che noi di solito si dice con troppa facilità esatto allora mi prendo la responsabilità perché tu dici no ma pensi a me no no ma io me la prendo penso anche a me con troppa facilità abbiamo dato una spallata faccio autocritica no non abbiamo saputo gestire il passaggio non abbiamo saputo gestire il dopo di solito si dice abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca noi invece abbiamo fatto un'altra operazione abbiamo buttato il bambino e ci siamo tenuti l'acqua sporca allora non abbiamo non abbiamo non abbiamo saputo approfittare secondo me non abbiamo saputo approfittare di quella che era una grande occasione di cambiamento di modernizzazione del paese e ci siamo trascinati ci siamo trascinati sull'onda dell'antipolitica sino ad arrivare se non voglio prendere posizione non voglio criticare nessuno ma insomma è chiaro che l'antipolitica ha alimentato il qualunquismo il sovranismo e chi più ne ha più ne mette e oggi dobbiamo confrontare con fenomeni che sono figli di quella stagione questo è il dato io condivido la tua analisi la applaudo idealmente beh questo mi consola Paolo e no perché e mi prendo aspetta la mia parte di responsabilità perché non mi chiamo fuori da ma non è anch'io tipo beh forse Baldassare è uno che si può chiamare fuori perché lui devo dire seguendolo da anni queste cose le ha viste per tempo il deperimento il deperimento il cambiamento in peggio della politica questo infatti sì insomma l'hai osservato da vicino come forma di militanza e criticandolo sì anche se devo dire permettemi una confessione personale nel 2001 ho scritto un libro sulla crisi della democrazia cioè come la globalizzazione i mercati mettessero in crisi i principi di stato di diritto cercando di spiegare come e perché e quindi cercando di prendere le contromisure beh devo dire la verità quel libro ha avuto una vendita così bassa che l'editore mi ha detto cambiamo argomenti su questi argomenti non mentre quindi si è scritto un bel libro di denuncia no 15 anni prima ho scritto perché la terza me l'ha fatto scrivere perché 15 anni prima ho scritto un libro sui presidenti della repubblica dicendo anche cose riservate dando un'interpretazione nuova del famoso caso Leone che allora fu vituperata da tutti i giornali adesso è accettata da tutti ma comunque quel libro ebbe un grandissimo successo editoriale che era un libro diciamo di analisi costituzionale cercando di entrare dentro il Quirinale tanto è vero che era intitolato gli uomini del Quirinale ecco quel libro piace perché evidentemente questi tipi di discorsi piacciono quando si parla di democrazia e di crisi evidentemente c'è una certa come si può dire indifferenza a questi temi che a me preoccupano perché come dicevi tu dobbiamo guardare come funziona il nostro e gli altri sistemi io credo che un punto fondamentale della crisi della democrazia è la crisi dei partiti non credo che rinasceranno più i partiti credo che è una forma di organizzazione della politica tipica della società industriale non credo quindi che rinascano però questo fatto a non aver saputo sostituire all'organizzazione partitica nient'altro ha prodotto una personalizzazione della politica che è evidente sotto gli occhi di tutti non solo in Italia ma anche all'estero ancora una volta in Italia con forme più esagerate perché l'Italia è un paese più destrutturato di altri dal punto di vista sociale più sicuramente della Germania più persino della Spagna e allora questo è un dato di fatto che dobbiamo parte e l'accennava prima lui è un dato di fatto che dobbiamo tenere conto se l'organizzazione non è più quella partitica quindi quella collettiva di creare delle comunità particolari all'interno della comunità generale se non è più questa e sono singoli persone che propongono che si propongono sullo scenario politico e dice io ho queste idee o a volte non dico nemmeno questo perché non ce l'hanno per niente le idee dice votatemi perché sono bello sono simpatico perché sono donna perché sono gay perché sono qua insomma per elementi tutti superficiali e beh allora è chiaro che la politica a questo punto perde il suo ruolo perché perde la capacità progettuale perde la capacità di ragionamento c'entra anche la rivoluzione della comunicazione sociale se una volta già la televisione aveva cambiato la comunicazione politica perché in televisione i tempi sono strettissimi in un minuto due minuti uno deve dire tutto ed è chiaro che uno in due minuti non si può ragionare non si possono esprimere i ragionamenti con la comunicazione con i social con internet la cosa è ancora peggiorata cioè la razionalizzazione del discorso la razionalità del discorso è diventata un fatto totalmente escluso dalla comunicazione mentre una volta con i partiti di massa io ricordo per l'età le tribune politiche con i grandi leader del passato con Togliatti ma era per un giovane era un godimento sentire quel tipo di ragionamenti politici guarda io penso che sia vero ancora adesso perché se noi dedichiamo un sabato mattina a un ragionamento e troviamo una sala così affollata e qualcosa vorrà dire secondo me l'idea che il mondo sia tutto un tweet è un'idea fallace e anche un po' involgarita di questo momento io sono convinto che basta cominciare basta fare un'operazione in cui si presenta in tutta umiltà e modesta e si fa una mattinata a ragionare noi non abbiamo lo scopo di colpire di fare una battuta d'effetto di finire sui giornali o in televisione e guardati guardati intorno attraverso tutte le indagini emerge una richiesta di politica una richiesta di buona politica non è vero che gli italiani detestano la politica non vogliono saperne niente della politica ambiscono e pretenderebbero una buona politica quindi se ci fosse se fosse data applaudite pure perché noi facciamo se fosse data ai cittadini la possibilità di confrontarsi con la buona politica i cittadini seguirebbero insomma sarebbero sarebbero proprio disposti finisca sì volevo dire questo quello che tu dicevi è verissimo ma qui c'è un'esigenza un bisogno la stessa cosa che sottolineava ora lui ma ciò che fa massa critica è un'altra cosa sono quando ero presidente della RAE mi portavano gli elenchi di coloro su cui misuravano l'auditel cioè i successi delle varie trasmissioni e mi portavano un'analisi sociologica delle persone che formavano questa opinione erano età da 55 anni in su cultura zero casalinghe allora se il successo di una trasmissione televisiva viene basato su quante persone di questo tipo vedono un certo programma è chiaro che i programmi che faranno in televisione saranno sempre peggiori perché sono espressione di questi gusti però Cosetti io ho l'impressione che qualcosa quello che diceva prima far allargandolo qualcosa stia cambiando perché se può accadere che una sera in prima serata un programma di Piero Angela batta un programma di Maria De Filippi vuol dire qualcosa vorrà dire qualcosa vuol dire che nel paese non è detto che ci si debba rassegnare non è detto che ci si debba rassegnare si può ancora fare qualcosa però consentitemi si devi finisce il fatto che siamo a discute vuol dire che nessuno di noi si rassegna no grazie procuratori io le chiedo di trarre le conclusioni di questa nostra conversazione ma di aggiungere una parola su cosa pensa lei si spogli un attimo dai panni di procuratore dal lavoro che le impegna 23 ore su 24 vada la 24esima ora e cosa pensa lei da cittadino che legge i giornali che guarda la televisione che vota il giorno delle elezioni delle considerazioni che abbiamo fatto in questa in questo dibattito in questo seminario questa mattina beh io innanzitutto vorrei dire che ci sono effettivamente vari problemi ora uno dei problemi ai quali indirettamente si è fatto riferimento ma che non si è menzionato è la stampa perché purtroppo la stampa non si occupa di tanti temi che sono importanti come il tema della legalità o il tema delle mafie o il tema di un'economia sana il tema di una politica sana mi sembra che via via stiamo diffondendo il messaggio che la stampa è solo cronaca ma è quello che dicevate poc'anzi che se guardiamo quello che avviene e allora per la televisione diamo spettacoli con un contenuto sempre più basso sempre meno culturale è evidente che abitueremo anche il nostro uditorio a quel livello e disinformeremo non informeremo non daremo più la capacità di adeguarsi ai nostri tempi ma toglieremo ogni interesse alla cultura a quel che c'è di più bello ai valori l'esempio anche quando si parlava poc'anzi di televisione una televisione che se si dedica sempre a determinati soggetti finisce per perdere il proprio significato Gomorra come i vari i vari sceneggiati che riportano mafia e camorra ecco qual è l'ascolto l'ascolto è alto è altissimo e cosa significa questo che stiamo dando un messaggio sbagliato perché stiamo non informando ma soltanto dando una immagine della camorra o della mafia che non è quello rispondente alla realtà ma solo quello che nell'immaginazione collettiva corrisponde al potere mafioso quindi diffondiamo qualcosa che non corrisponde nel momento in cui anzi ne creiamo un mito un po' la critica che fu fatta al padrino un modello da imitare delle parole da usare nel discorso corrente dei comportamenti da replicare ma nel momento in cui mostriamo il boss mafioso che ha ricchezza ville auto donne si diverte e uno che non ha problemi ecco cosa abbiamo mostrato non abbiamo mostrato la verità perché io le posso assicurare che i più grossi mafiosi che ho interrogato nel carcere piangevano a distanza di anni e mi dicevano se ci avessi pensato prima non avrei mai fatto il mafioso il procuratore può essere che quelli erano vecchi e che invece la realtà mostrata da camorra siano i giovani le ultime eleve no li ho interrogati fino a qualche anno fa quindi erano giovani allora mi taccio mi dispiace bravo se è possibile visto che il presidente Baldassare è stato anche presidente della RAI io credo che la RAI abbia che la RAI abbia gravissime responsabilità nella diseducazione del pubblico italiano la RAI ha cercato di inseguire pedissequamente la televisione commerciale facendo adesso si è corretta io faccio costantemente programmi di storia mattina pomeriggio e sera si è riscattata la RAI anzi ho cominciato a farli quando era presidente Baldassare comunque secondo me la RAI dovrebbe recuperare il proprio ruolo pedagogico dovrebbe dare dalla mattina alla sera solo i programmi miei mi piacerebbe fare una petizione in questo senso siamo d'accordo grazie però vorrei finire questo per quanto riguarda diciamo l'informazione ma anche per quanto riguarda la politica prestare una maggiore attenzione al tema delle mafie ora può sembrare che da procuratore nazionale antimafia in terrorismo l'unico problema sia quello delle mafie ma in realtà mi sembra che la disinformazione è tale da non comprendere quale sia l'effettiva influenza sul nostro sistema economico delle mafie perché via via questo è proprio questo il punto perché questa è l'immagine attuale moderna proiettata verso il futuro quando ne parliamo perché ci sta in mezzo anch'io prima facevo dell'autoironia ne parliamo noi parliamo così da storici appunto ne parliamo ma questo di cui lei sta dicendo adesso manca completamente questo l'avverto anche io sui giornali in televisione ma persino nell'approfondimento sul web manca ma quando si afferma che le mafie soltanto per quanto riguarda il traffico internazionale di stupefacenti riescono a incamerare 30 miliardi di euro l'anno in Italia ci si rende conto che questa cifra enorme viene poi reinvestita e quando nelle indagini verifichiamo in quale modo ci accorgiamo che i settori nei quali operano sono i più vari e che le società sono di ogni tipo a responsabilità limitata per azioni hanno forme sociali molto evolute laddove hanno delle strutture di professionisti al loro servizio e laddove via via si espande questo metodo criminale il metodo mafioso che via via si presenta come il più conveniente e quando pensiamo che le mafie si costituiscono in reti non esiste più Cosa Nostra che opera in Sicilia o opera a Torino o a Milano non esiste l'Andrangheta che opera a Reggio come una parte del nord o la Camorra operano assieme gli affari li fanno assieme questo è l'aspetto peggiore che ci dimostra come bisogna intervenire anche subito bisogna avere la sensibilità dell'importanza del tema oggi non si ha nel Regno Unito pensano che chi porta soldi è sostanzialmente un uomo che aiuta l'economia a crescere non comprendono che i soldi che portano i nostri mafiosi sono soldi che cambiano il sistema economico e noi in Italia via via stiamo assumendo lo stesso atteggiamento di fronte ai soldi mafiosi del Regno Unito ma lì non hanno visto crescere le mafie e quindi non hanno la nostra sensibilità e la nostra cultura è qui che mi meraviglio come il problema mafia venga sempre messo da parte quasi che sia una vergogna non è una vergogna combattere la mafia ma tacere sulla mafia questa sì che è una vergogna grazie procuratore grazie a tre grandissimi personaggi io stesso mi sento onorato di aver partecipato oggi a una discussione con voi anche perché neanche un minuto è stato dedicato alla chiacchiera insomma tutto ciò che ho ascoltato mi ha arricchito credo che il fatto che siano rimasti tutti in sala fino adesso e vorrei che il presidente che qui ci ha voluto traisse una conclusione su questa mattinata grazie sì grazie intanto alcune osservazioni voglio dire che condivido totalmente l'analisi del procuratore Cafiero De Rao in alcuni aspetti particolari vi dico quali il primo sulla borghesia mafiosa che non ha approfondito naturalmente per i tempi e quest'ultima osservazione che riguarda i media noi abbiamo sottolineato quelle televisive ma i media dei giornali locali hanno una responsabilità educativa nell'organizzazione di una società perché sono seguiti ma soprattutto hanno una responsabilità di direzione ma spesso sono asservite al potere di turno che può anche essere un potere non voglio dire legale ma certo è quasi sempre un potere politico che di turno governa quell'area quella piccola area quindi sono giornali locali che hanno una responsabilità in mane e che hanno necessità di essere rivisitati perché così come abbiamo detto nel mondo della politica dell'istituzione c'è stata una decadenza quella decadenza in quei settori fanno danni fanno del male fanno del male al lavoro dei procuratori fanno del male al lavoro alla politica buona e soprattutto in voglio dire va riconosciuto un upgrading al caffiero del Rao nel segmento degli invisibili perché lui ha fatto delle inchieste che è arrivato dove nessun altro era arrivato prima gli invisibili sono il segmento non solo burocratico ma anche quello politico e a questo una piccola critica naturalmente non è alla persona ma al sistema che i tempi per arrivare a queste verità sono talmente tanto lunghi che quasi alla fine un cittadino dice è vero quel politico era colluso come è possibile direttore Miele che alcuni politici che sono indagati perseguiti e forse con i soldi dei cittadini con intercettazioni ambientali telefoniche da 7, 8, 9 anni gli si è lasciato fare tutta la carriera politica e vengono inquisiti e talvolta arrestati solo alla fine lui è il protagonista di questo segmento finale perché questi sono i momenti in cui procuratore quando diciamo che c'è una parte buona della cittadinanza che veramente non solo le scuole che vorrebbe tifare per legalità e altro viene uno scoraggiamento perché devo fare un corteo antimafia quando ho vissuto e vedo che per tutto sto tempo avete lasciato la mia città governata da 30 40 persone di cui 27 26 colluse o in situazione di questo tipo allora un monito e chiudo è che secondo me la collaborazione fra le alte sfere della politica dell'istituzione e della magistratura non funziona bene o almeno non funziona negli uomini perché una volta nei primi del novecento governava chi ha si diceva chi ha e chi sa oggi governa chi non sa e chi non ha e allora io dico che sono gli uomini a fare l'istituzione e non viceversa grazie grazie presidente grazie a voi ripeto per aver assistito con interesse a questa mattinata e vi do appuntamento per il primo pomeriggio quindi dopo grazie grazie ancora e procuratore un grazie a lei speciale grazie grazie a tutti